TELIVETE SCRATTA Questo... che spettacolo che spettacolo ora che dietro ora che dietro ora che dietro ahahahahahahah muore 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 guarda che fenni che fanno guarda 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 tu vuoi alzio a te a dico però dammi dammi ciò attivo vado a prendere la porura mentre valla e ci lo avete a riuscire guarda 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 guardaんで guarda guarda amore guarda 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 oh ma quant'è a meno 3 minuti e 19 manca 3 minuti e 19 vai ti recupero ti recupero vai 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 guarda 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 non resta non fuggi oh è uguale al Vani oh Galvani Galvani è il mio quarto andana Dalli 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 3 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti che grande Dalli 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 g Dalli 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 E Dalli Dalli S Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.